Perchè gli investimenti a lungo termine? Arrivano in ritardo, ne arrivano in quantità inferiore a quello che sono necessari e quindi diciamo che c'è una domanda significativa e crescente di investimenti a lungo termine e quindi il nostro obiettivo di far diventare Roma un momento annuale di verifica di quello che è stato fatto rispetto all'anno precedente, quindi passi in avanti e passi indietro può avere una prospettiva infinita che va al di là della dimensione di impegno professionale di ciascuno di noi. Lo dico soltanto per rassicurare tutti che vorremmo non fare in questa giornata la solida prolusione delle aspettative, perché quelle diciamo diamo per scontato che chi sta in questa sala le conosca e auspicabilmente le condivida, ma che questo appuntamento annuale ci consenta di verificare i passi avanti e i passi eventualmente indietro che sono stati fatti, le opportunità e i rischi che ci siamo presi. La Federazione Banca Assicurazione e Finanza è stata la prima, o tra le prime, tra le organizzazioni rappresentative di interessi collettivi a fare affidamento sul messaggio implicito del cosiddetto piano Juncker. Quando è uscita l'idea, tra quelli che dicevano che la leva era troppo elevata, che i 300 miliardi di investimento non si sarebbero mai raggiunti, che la complessità era enorme, quelli che invece vedevano il bicchiere mezzo pieno e dicevano che era un percorso da condividere, da consolidare, noi abbiamo fatto parte di questa seconda categoria. L'abbiamo fatto parte per due ragioni. La prima ragione è che sul mercato non mi sembra che ci siano state in questo periodo alternative o proposte migliori. E quindi come tale questo percorso era quello che ce n'era offerto per cercare di fare un passo in avanti su questo obiettivo degli investimenti a lungo termine. Il secondo motivo è che l'organizzazione e la modulazione del progetto faceva riferimento ad alcuni principi che noi consideriamo validi, anche se poi per la parte execution dipendono dalla qualità dei comportamenti dei singoli attori. E' valido il principio di lavorare con un sistema a leva, avendo come riferimento un fondo di garanzia sottostante che garantisce quindi un coinvolgimento del mercato negli investimenti. E' valido il principio che per fare degli investimenti pubblici o privati di lungo termine bisogna, tra virgolette, implementarne la fattibilità con politiche di garanzia che consentano di avere tassi di rendimento e tassi di probabilità di successo che siano un po' più complicati rispetto a quelli che offre il mercato. E' valido il principio che l'azione a livello comunitario, a livello di Unione Europea e l'azione a livello dei singoli paesi deve essere integrata in un sistema a matrice le cosiddette piattaforme nazionali. Questi mi sembrano i motivi per cui noi siamo stati d'accordo e questi sono i motivi per i quali noi rimaniamo con un giudizio positivo su questo tema. Un giudizio positivo che ovviamente, avendo adesso superato un po' le fasi formali, burocratiche, normative, si misurerà nei prossimi mesi con lo stato dell'arte, con i fatti. Sapranno i paesi implementare e gestire le proprie piattaforme nazionali quelli che hanno già deliberato dei fondi che, come sapete, ammontano oggi a 35 miliardi? Sapranno farli ricadere in progetti che rispondano a questi requisiti? Sapranno gli altri paesi implementare questi fondi in modo tale da avvicinarsi a una dimensione macro più significativa? Saprà la Banca Europea per gli investimenti, diciamo, declinare l'aggettivo addizionale dove per addizionale significa che devono essere operazioni che sul mercato non sarebbero state finanziate se non ci fosse il fondo di garanzia, il che vuol dire che o hanno un rendimento relativamente parlando più basso di quello che chiede il mercato o hanno un livello di complessità più alto di quello che normalmente accetta il mercato. Sapranno gli investitori privati, gli investitori istituzionali, come dire, fare partnership con queste disponibilità per raggiungere l'obiettivo? Queste mi sembrano le domande che io porrei all'attenzione della giornata di oggi e di domani mattina. E cosa bisogna fare per evitare che anche coloro che sono animati, tra virgolette, di buone intenzioni poi non riescano a scaricarle in termini di operatività? Il resto, se mi consentite, è dibattito, come dire, lessicale, usiamo questo termine e il tema che noi ci troviamo oggi di fronte è questo. Ed è un tema fondamentale. Perché? Perché io lo vedo ovviamente nella situazione dell'Italia, ma di fatto è un tema europeo anche se l'Italia per motivi oggettivi e soggettivi gode di un principio di assoluta leadership in questi, come dire, deficit di ingredimento. Perché infatti noi facciamo un grande dibattito sul fatto che le esportazioni crescano di più o di meno in relazione all'andamento dei cosiddetti paesi emergenti. Facciamo dibattiti, leggiamo sui giornali tanti dibattiti sul tasso di crescita della Cina piuttosto che di altri paesi. Se è troppo basso, cosa produca, cosa non produca. Comunque parliamo di numeri che sono incommensurabili rispetto a quelli, diciamo, dei paesi, tra virgolette, industrializzati. Facciamo un grande dibattito sul fatto se i fattori di sviluppo della crescita in questo periodo siano strutturali o congiunturali, cioè legati agli effetti del quantity easing, legati al conseguente riallineamento tra euro e dollaro. Tutti dibattiti giustissimi, bellissimi, ma tutti dibattiti che, tra virgolette, poi si concentrano su due dei tre corni della crescita, sul tasso di internazionalizzazione, quindi di esportazione, che comunque cresce. Cresce di meno, cresce di più, cresce in modo equilibrato, cresce in modo meno equilibrato, però comunque cresce. Sul tasso di crescita domanda interna, che è sempre stata la grande sfida di politica economica dell'Unione Europea, che non ha mai capito e attuato politiche per mantenere l'equilibrio i tassi di crescita da domanda interna con gli altri tassi di crescita attesi, e che è la grande sfida della Germania, che, come voi sapete, ha su quel piano una serie di responsabilità che noi non gli ricordiamo ogni giorno perché siamo amici e perché siamo persone intelligenti e di buon tonno, non so se ne rendo l'idea, però che comunque esistono, voglio dire, e che per l'Italia sono sempre state tragiche. Siamo arrivati al punto oggi che nel dibattito italiano, leggiamo i commercianti, voglio, abisit in uvia verbis, non voglio usare questa categoria come sinonimo negativo, ma le associazioni dei commercianti, da che mondo è mondo, in Italia in modo particolare, protestano sempre, non so se ne rendo l'idea, sono sempre pessimiste perché vogliono di più, vogliono più soldi, più domanda pubblica, meno tasse, perché giustamente vogliono aumentare la domanda interna. Siamo arrivati al punto che le associazioni dei commercianti danno delle previsioni di crescita della domanda interna maggiori di quelle che danno gli economisti, gli opinionisti, di quelli che leggiamo sui giornali. Abbiamo la nemesi storica, non so se ne rendo l'idea, è chiaro? Quindi probabilmente anche la domanda interna, un po' perché ha raggiunto un livello troppo basso, un po' perché si sono create condizioni, diciamo cresce, crescerà, certo cresce e crescerà dopo sette anni con due recessioni, quindi sappiamo tutti che la domanda interna dopo una recessione, quindi dopo due recessioni cambia. Sappiamo tutti che un sacco di persone si rendono conto, dopo non aver comprato dei beni per lungo tempo, perché sono stati impossibilitati in termini economici, che quando hanno un po' di risorse non è detto che vanno a comprare gli stessi beni, può darsi che vanno a comprare altri beni e altri servizi. Sappiamo tutti che questo è un fenomeno come dire che si ripete e sappiamo tutti che più andiamo avanti, più questa mobilità in termini settoriali e categoriali aumenta. Quindi come tale, se noi facciamo i paragoni sempre partendo dai famosi dieci punti che c'eravamo prima, della perdita del PIL e ci danniamo l'anima per capire quando li raggiungeremo, io spero che li raggiungeremo presto, però onestamente non penso che debba essere la responsabilità principale, perché non è che quando avevamo dieci punti in meno di PIL vivevamo relativamente molto peggio, molto meglio di come viviamo oggi, quindi come tale sotto questo punto di vista sarei attento. Peccato che tutti dedicano attenzione alle esportazioni, tutte le economie e nessuno o pochissimi dedica attenzione al livello degli investimenti, cioè alla terza gamma, quella più strutturale per favorire una politica di crescita. E questo vale per gli investimenti pubblici e vale per gli investimenti privati. Ecco perché l'incrocio tra l'azione del piano Juncker con le tematiche che ho detto prima e i problemi dello sviluppo dell'economia sono, come dire, io ovviamente faccio il mestiere dell'imprenditore, temporaneamente il presidente di banca, anche se sono 18 anni, quindi dopo 18 anni ho qualcosa, ne ho capito, oppure c'è un problema più grande che però vi posso assicurare al momento non penso esista. E quindi sotto questo punto di vista dobbiamo poi c'è il problema che se tutti parliamo degli altri e nessuno parla di se stesso, il problema non lo risolviamo mai. Vale per gli stati, vale per le imprese, vale per le collettività, vale per l'organizzazione dei servizi pubblici. Quindi il tema degli investimenti, a medio, a lungo, mettetela voi come ritenete, è essenziale per dare stabilità a questo risveglio della crescita e per dare, come dire, una proiezione naturale e ordinata della dimensione dello sviluppo. Su questo Juncker con le sue normative può fare parecchio, parecchio possiamo fare anche noi se pensiamo al mondo che viene e non al mondo che è stato. Perché se noi aspettiamo di immaginare nel mondo che viene, il mondo che è stato, con i suoi tassi di inflazione e con i suoi tassi di rendimento tra virgolette eccezionali, in un periodo in cui la globalizzazione aveva esploso tutte le sue potenzialità e aveva coperto tutte le sue contraddizioni, pensiamo a una cosa che non tornerà più. Se noi pensiamo che se un investimento lo rende dal 15 al 20% non è un buon investimento e allora è meglio che cambiamo, come dire, tra virgolette, le mestiere. Certo, tutti spieghiamo che renda non il 15% ma il 20%, non il 20% ma il 22%, però non possiamo ragionare con la logica che le due cifre rimangono sopra e non rimangono sotto. Quando sotto abbiamo politiche e situazioni di crescita dell'inflazione che sono, come dire, rasentano, come dire, lo zero non assoluto ma relativo, voglio dire. E quindi sotto questo punto di vista dobbiamo anche fare un salto culturale, se posso utilizzare questa espressione. Il mondo futuro è un mondo di crescita, è un mondo che svilupperà i processi di globalizzazione, di internazionalizzazione, ma che non può vivere sempre alla velocità di Spidi Gonzales sulla lancia nel film Il Sorpasso, perché non è possibile. E quindi come tale bisogna che questo lo interiorizziamo, dei buoni rendimenti costanti anche a una cifra, se la cifra è una cifra alta e se, voglio dire, le fonti di finanziamento sono adeguate sono un buon investimento, soprattutto per il pubblico, soprattutto per gli investimenti di interesse collettivo, che producono oltre al rendimento diretto, un rendimento indiretto di qualità della vita, che produce un effetto economico, che produce un'ulteriore crescita addizionale, aggiuntiva, la chiamerei superaddizionale, per definirla dall'addizionale primaria, addizionale secondaria. E dato che la crescita dei paesi moderni, per quanto nel medio periodo, voglio dire, non può lavorare sui percorsi storici, che il 3% è lo zoccolo e poi dobbiamo salire solo, perché è una buona crescita tra il 2 e il 3%, è un'ottima crescita per un paese industrializzato, voglio dire, se è costante e se è continua, quindi noi dobbiamo abituarci, voglio dire, a ragionare con questo mondo nuovo, perché se noi non ragioniamo con il mondo nuovo, noi, voglio dire, aspettiamo di fare gli investimenti quando qualcuno ci presenterà qualche bel progetto, se qualcuno riesce, come dire, a condirlo bene, può darsi pure che lo rappresenta, normalmente quelli sono progetti che hanno più problemi che opportunità e quelli che si presentano con dei seri progetti di sviluppo, gli mettiamo nel cassetto, grazie, interessante, peccato che non è adeguato al nostro, come dire, obiettivo di rischio e di rendimento. Ecco, io penso quindi che ci sia un problema culturale, salutiamo e ringraziamo il Ministro Pato che sta entrando, ci sia un problema culturale, oltre al problema di implementare bene la dimensione normativa che prima dicevo c'è un problema culturale, il mondo cresce in un modo diverso, i tassi di rendimento si svolgono in un ambiente economicamente, strutturalmente diverso da quello del passato, i nostri obiettivi di investimento devono adeguarsi a questo nuovo ambiente. Allora, se riusciamo a far funzionare le regole, Juncker, piattaforme nazionali, politiche di partnership pubblico privato e se riusciamo a collocare all'interno di una cultura che tenga conto del mondo dei prossimi venti anni e non del mondo degli ultimi venti anni, se insomma, tra virgolette, sappiamo essere seri, costanti, continui e anche ambiziosi al punto giusto, senza essere utopici, che significa essere di fatto fuori dalla realtà, noi può darsi che riusciamo a far sì che accanto ai due temi che vanno di moda, il tasso di esportazione e di internazionalizzazione e il tasso di crescita domanda interna, riusciamo a creare una terza gamba, quella degli investimenti pubblici e privati che abbiano la sua dimensione. Per fare questo e con questo concludo, perché io come dico, molti di voi mi conoscono, quindi tra virgolette sanno i miei aneddoti, ma qualche d'uno no, anche perché sono ospiti internazionali. Allora io ricordo sempre l'aneddoto di quando andai a comprare, era il 71 e mi interessava la squadra di calcio del Benevento, andai a comprare un calciatore che ci serviva per rinforzare la squadra, diciamo, durante il campionato, quindi a settembre, era finita già la campagna acquisti e questo calciatore stava seduto sulla battigia a Battipaglia, sul mare, in un stabilimento ovviamente chiuso, diciamo abbandonato, con questi tavolini, lui lì bello, grosso, imponente, quindi forse del calciatore ci aveva meno di quello che fosse opportuno e io gli dissi, scusi signor Lembo, lui così si chiamava, ricordo se fosse adesso, dico ma lei per venire a giocare a Benevento quanto vuole, quanto prende di stipendio? E lui mi rispose, presidente, che poi non ero presidente, io sono come un giughe box, se metti 50 lire suono una canzone, se ne metti 100 ne suono 3. Io capì che aveva un livello culturale ed etico un po' differente da quello che noi chiedevamo ai nostri collaboratori, gli dissi, Lembo, lei sta benissimo qua, guardi, c'è il mare, c'è la spiaggia, c'è la serata, ci vediamo in un'altra occasione, ecco, allora io quando parlo sono un po' come un giughe box, se serve che allungo, allungo, se serve, non prendo però né 50 né 100 euro, voglio dire, sono come dire gratis in tutte e due le condizioni. Dicevo quindi, in questo contesto si pone poi il problema di una, come dire, dinamica di relazioni tra gli Stati e l'Unione Europea in cui i principi delle normatie vigenti, voglio dire, siano applicati in modo equilibrato, in modo coerente e in modo rapido, perché le vicende di questi giorni ci fanno capire come le norme poi camminano sulle gambe delle persone, quindi su delle amministrazioni e se le amministrazioni poi per motivi più o meno soggettivamente legittimi o comprensibili hanno dubbi, prendono ritardi, portano avanti, poi alla fine ci troviamo che dobbiamo prendere in condizioni di emergenza applicando le norme, quindi rispettando le norme, situazioni di cui minimizziamo i vantaggi e massimizziamo i costi. Allora il vero tema è che l'Italia ha fatto una sua strategia, che io personalmente a livello di cittadino condivido, di quel governo italiano, ha detto io sto dentro ai parametri, ma dentro ai parametri e con l'obiettivo di una discesa del rapporto debito-PIL voglio avere le flessibilità che mi consentono di ripartire. Questo sta all'interno delle regole e se sta all'interno delle regole cerchiamo di darci tutti quanti una regolata, non ce la tiriamo perché ognuno vuol dimostrare che lui è essenziale, ogni direttore generale vuol dimostrare che la sua firma è importante, ogni soggetto politico vuol dimostrare che è interverso, ma se noi ragioniamo così, voglio dire per chi come me ha fatto un affidamento sull'Europa perché sperava che il cedo politico europeo superasse alcune contraddizioni storiche del cedo politico italiano degli ultimi 30 anni, corriamo il rischio che voglio dire che diamo dalla padella nella braccia, quindi sotto questo punto di vista e con questo concludo noi parliamo di investimenti, parleremo ogni anno dei passi avanti e dei passi indietro che abbiamo fatto rispetto agli anni precedenti, chiediamo e vogliamo più Europa, chiediamo e vogliamo che però le regole vengano applicate non solo in modo equanime ma applicate rapidamente, perché il tempo delle decisioni è un tempo che porta degli effetti diversi sugli oggetti che in questo caso sono i soggetti delle divisioni, se io sto bene e vado a farmi un'analisi e mi trovano che un parametro è leggermente diverso, se mi danno la medicina o la cura l'ultimo giorno, voglio dire un mese dopo, io campo bene e tranquillo lo stesso, se io sto male e la cura me la danno con un mese di ritardo è capace quando mi danno la cura, voglio dire non ci sia più l'oggetto della cura e quindi come tale noi non dobbiamo fare solo un ragionamento di rapidità e di equità rispetto diciamo alle normative ma anche rispetto agli obiettivi che i singoli paesi si pongono, l'Italia è un paese che vuole tornare a pieno titolo ad essere un partner adeguato dell'Europa in termini di impegni e in termini di risultati e penso che sia interesse di tutti che questo accada, non so se anche di quelle realtà della burocrazia tra virgolette europea che delle volte a noi italiani sembra così lontana e lo dice uno che per il mestiere che fa, dice sempre che il bicchiere è mezzo pieno e non è mezzo vuoto perché non posso certo di essere io a mettere in evidenza certe situazioni ma poi a forza dei pigliaschiaffi, non so se rendo l'era, anche Totò a un certo punto diceva ma io mi riso Pasquale, non so se rendo l'era e quindi c'è un limite, non so se rendo l'era allora non facciamo affidamento sul centro dirigente del nostro paese ma facciamo affidamento anche sul fatto che il centro dirigente vuole più Europa, vuole un'Europa più integrata vuole un'Europa più competitiva, vuole un'Europa più dinamica però vuole anche dall'Europa delle risposte on time, vuole delle attenzioni all'interno delle norme legittime, vuole insomma rispettare ma essere rispettato e su questo bisogna che ci facciamo come dire diciamo patti chiari e amicizia lunga come si dice in Italia perché altrimenti corriamo il rischio che se dobbiamo giocare a chi fa il pierino, vi posso assicurare che gli italiani in questo sono dei maestri, non sono dei regolini, hanno costruito nella loro storia delle dinamiche sociali e culturali su questo, ma non penso che sia come dire l'obiettivo di nessuno né deve essere l'obiettivo nostro. Quindi io vi ringrazio dalla partecipazione Cosimo, se ringrazio il Ministro Padovan e il Presidente Tajani della loro presenza, ho fatto l'embo, ho portato in modo tale che loro sono arrivati, voglio dire gli ho dato anche quei cinque minuti perché ho fatto un riesume finale per come dire consentirgli di entrare nel tema, a questo punto mi taccio e sto qui bello seduto insieme a voi a sentire i loro interventi e quelli di coloro che seguiranno. Grazie comunque di nuovo a essere presenti, ricordo che FEBAF è la federazione delle banche, assicurazioni e finanze, lo dico perché quando si dice FEBAF non mi ammette, la gente dice che è, non so se è, allora io colgo ogni occasione per fare un po' di come dire spiegazione, banche, assicurazioni, federazione banche, assicurazioni e finanze, acronimo FEBAF. Grazie. La parola al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Paduan. Mi è stato chiesto e volentieri lo faccio di esporre le mie brevi considerazioni in inglese anche per facilitare la condivisione con i molti ospiti non italiani in questa sala. So, let me start with Europe's challenges. Europe's growth and employment creation remains unsatisfactory. The ECB effort is very welcome. However, it must be complemented by action, by member states and at the EU level. The European's growth strategy continues to rest on three pillars. A growth-friendly fiscal consolidation, structural reforms and investment support. In this venue, I will concentrate on this last point. I think we can all agree on one fact, that investment is insufficient. That it is insufficient, one may be aware in a number of ways. It is useful to interpret the large current account surplus of the Euro area as a clear evidence of lack of investment in the Euro area itself. Investment is low, in spite of very low interest rates. So, this, to me, signals that the search for profits and for risk-taking remains below what is required. Investment expenditure collapse in Europe, as we all know, in the aftermath of the global financial crisis. While gross domestic product and private consumption were, in the second quarter of 2014, roughly at the same level as in 2007, total investment was about 15% below 207 figures. And five member states, France, UK, Greece, Italy and Spain, account for around 75% of this gap. There are, of course, also huge infrastructure investment needs in the EU. Two trillion euros until 2020 on transport, energy, telecommunication, water, waste and other utilities. But since the 1970s, public investment has been declining in Europe, while the development of new financing instruments has been increasing. So, mobilizing private capital and capital markets is key, particularly in today's environment. In addition, as we all know, compared with the United States, European SMEs receive five times less funding from capital markets. If our venture capital markets were as deep as in the United States, more than 90 billion euros of funds would have been available to finance companies between 2009 and 2014. If EU's securitization could be revived safely to pre-crisis average issuance levels, banks would be able to provide an additional amount of credit to the private sector of more than 100 billion euros. Promoting young firms is also a strategic goal, because, as we all know, they are the true engines of future job creation. According to OECD research, for instance, about half of all the new jobs are created by young firms. And these firms have always been new net job creators throughout the business cycle, even during the financial crisis. The financing and development of such young, high-growth firms is therefore a central challenge for the EU. Also, the larger are the more productive firms, the greater the extent to which their good performance gets reflected in the overall economic growth. Unfortunately, the most productive and dynamic firms do not always attract the necessary capital and labor to grow to optimal scale. In some economies, including Italy, the most advanced firms have productivity levels close to the global technology frontier, but they are undersized relatively to their peers in other countries. Italy has a problem of firm size and access to appropriate financing sources that the government is addressing with the Finance for Growth program, on which I will return in a minute, and with deep reform of the banking sector. On the other hand, the so-called made-in-Italy, Italy's comparative advantage, is changing its identity. In recent years, an increasing number of Italian companies in mechanics, nanotechnology, healthcare, aerospace, acquired a global role, becoming a crucial part of the international value chain. So Italy needs a healthy and efficient financial system to allow firms of all sizes to fully express their economic potential. And, of course, we cannot rely uniquely on the banking sector to address all financing needs of all firms. The EU business environment funding is dominated, not just in Italy, by the banking system, and it is largely organized along national lines. While banking will certainly continue to play a key role, a better equity culture, a better culture of corporate governance, and deeper and more accessible capital markets would benefit investment, growth, and jobs. The government has introduced the Finance for Growth program, addressing the constraints on credit to business via the diversification of financing sources. Insurance companies and credit funds can now lend directly to firms, while EU-based investors no longer pay a withholding tax. The Central Guarantees Fund program was extended to include mini-bonds, which are issued by SMEs meeting certain criteria. Therefore, the system is now better at fueling long-term risk capital financing, also to small and medium enterprises. The Finance for Growth program also provides incentives for SMEs to expand their operations, favoring stock market listing, cutting red tape, offering shares with multiple votes and increasing votes, but also enhancing capitalization through the allowance for corporate equity instrument. Finance for Growth is also finance for innovation. Today, we are in an extraordinary innovation hub, and I am confident that Italy can be a key player in today's global race to innovation. We support innovation through a tax credit strategy on R&D, through the patent box, but also through the introduction of so-called innovative SMEs, which are, for us, the building blocks of the new Italian economy. But as I said, action at the national level must be complemented with action at the EU level, and here is where Capital Markets Union comes in. The Commission unveiled on September 30th this year its action plan for the Capital Markets Union. The first set of measures aims at strengthening the link between savings and growth, improving access to finance for companies, particularly SMEs, and mobilizing private capital to support needed infrastructure investment. On November 30th this year, the Commission has proposed as part of its Capital Markets Union action plan an overall of the prospectus directive. We strongly share the main objectives of this revamp by making it easier and cheaper for smaller companies to access capital markets, by introducing simplifications and flexibility for all types of issuers, especially for secondary and frequent issuers which are already known to capital markets, by improving prospectuses for investors by introducing a retail investor-friendly key information. So, in our view, Capital Markets Union should be designed and thought of as a structural reform and as a transformation of the relationship between finance and growth in the EU's business environment. So, an intrinsic part of the European's growth strategy. The Capital Markets Union, of course, is consistent with Italy's flagship initiative, Finance for Growth. Indeed, let me remind that Italy supported vigorously the Capital Markets Union during its presidency of the Council of the EU. and we are deeply aware of the close relationship between national programs and EU-wide initiatives. To conclude, let me summarize by noting that when discussing about finance and financial markets and banks in Europe, there are at least three dots which should be connected. Capital Markets Union, which I just mentioned, Banking Union, and the Juncker Plan. In Europe, the completion of the Banking Union, the establishment of the Capital Markets Union, and the Juncker Plan are all progressing in parallel. However, in my view, more needs to be done to unleash the interconnections and synergies between these three programs in ways which, of course, require an overall unified strategy. The Banking Union aims at restoring financial stability in the Eurozone and in the EU, thus providing stronger banks to interact better in broader capital markets. Of course, the Banking Union was established with the main purpose of separating banks' balance sheets from sovereign debt risk. This important goal continues to be, of course, very relevant. It must be achieved in an orderly and not mechanic fashion to avoid undesired consequences. completion of the Banking Union in addition requires, as you all know, the introduction of a third pillar, a common deposit guarantee scheme which has been now addressed by the Commission and I hope that there will be an agreement on a gradual and flexible and mutualized introduction of this third pillar. Capital Markets Union aims at tackling investment shortages by increasing and diversifying the funding sources of Euro business and long-term projects. So, Capital Markets Union helps to provide more market-based risk sharing which is one of the key features of a strong monetary union and this is an example of how EU-wide measures can complement and support Euro area measures and I think that more needs to be understood and done in identifying synergies here. Finally, the Juncker Plan mobilizes investment of at least 315 billion euros in three years supporting investment in the real economy and fostering an investment-conducive business environment so it aims at providing more risk-taking long-term. Throughout all these tools we need to build a real union for financing and investment and to reach out to our companies explaining them that we are providing real opportunities for their international growth and for employment. To conclude in building this investment union and connecting the dots between the three components capital markets union banking union and the Juncker initiative we must take a unified view about risks. there are some risks that need to be reduced and mitigated. Other risks like long-term real investment infrastructure-based risk must be enhanced because we need more risk-taking as I just said. But also for the strong and feasible monetary union going forward we need and we hold that from Economics 101 more risk-sharing. I'm mentioning these issues because as many of you are aware this is a new emerging ground for confrontation in Europe and I hope that we can reach a unified view so that we can really put to the benefit of growth and especially jobs the European economic machine. This is the ultimate goal. Thank you for your attention. Thank you Good morning everybody I want to thank you for hosting me today in this very important meeting in Rome on the future of our economy. Because it's impossible to speak of the future of our economy without a good marriage between finance sector and industry. We need to strengthen this marriage. And now I speak in my mother tongue. Investire nella crescita è oggi la priorità di chi governa l'Europa e di chi governa di 28 paesi dell'Unione europea. L'Europa deve oggi mettere le sue imprese in grado di contrapporsi ai competitor americani e asiatici. La sfida della globalizzazione non può non prevedere una strategia politica che permetta alla nostra economia reale di competere. Dobbiamo difendere i prodotti europei dobbiamo permettere loro di avere anche mercati commerciali più ampi penso all'accordo con gli Stati Uniti che dovrebbe portarci ad avere il più grande spazio di libero mercato del mondo e avere anche la possibilità di dettare insieme le regole del commercio e tutto questo non si può fare se non c'è un coinvolgimento anche del mondo della finanza e delle assicurazioni delle banche che devono accompagnare questa nuova stagione ma l'Europa deve avere anche il coraggio di contrastare la concorrenza sleale credo che si debba riflettere molto seriamente sull'ipotesi di concedere il riconoscimento dei requisiti di economia di mercato a paesi come la Cina perché questo metterebbe in grave difficoltà l'intero manifatturiero dell'Unione Europea senza voler fare azioni contro la Cina ma noi non possiamo pensare di affrontare la sfida globale senza regole comuni il Levin Plainfield deve essere un po' il leitmotiv della nostra politica industriale in Europa ma anche fuori dell'Unione Europea noi dobbiamo rilanciare la crescita puntando anche su investimenti perché mi diceva qualche tempo fa Xavier Olley che è l'amministratore delegato della Borsa di Londra perché in presenza di consistenti possibilità finanziarie non si investe in Europa il motivo principale è la mancanza di fiducia la fiducia perché spesso non c'è una strategia perché spesso c'è una burocrazia ossessiva perché i tempi per svolgere attività di impresa sono lentissimi perché poi oggi aggiungo io siamo anche di fronte a una difficile situazione legata agli attacchi del terrorismo e a una stagione nuova anche legata a flussi migratori molto più ampi di quelli che noi potremmo essere in grado di affrontare ma abbiamo anche commesso degli errori in passato è mancato il coraggio lo diceva prima il ministro Paduan negli Stati Uniti si usa il venture capital che è un sistema di finanziamento moderno che poi prevede il coinvolgimento diretto a costo zero di altri imprenditori nell'ambito delle imprese per un po' di scelte troppo conservatrici degli imprenditori che temono di avere un altro interlocutore in casa propria si è proceduto a passi molto lenti oggi abbiamo cercato prima con il bilancio comunitario 2014-2020 di inserire un pacchetto che cosme che investe non tanto però da un segnale di orientamento a favore del venture capital ci sono 2 miliardi e 4 per il venture capital e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese il venture capital che potrebbe anche riducendo le proprie dimensioni essere più agevole all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda l'uso ecco se noi tra il 2008 e il 2013 avessimo fatto quello che hanno fatto gli americani avremmo potuto permettere le nostre piccole e medie imprese di attingere a oltre 90 miliardi di euro in finanziamenti ripeto anche la burocrazia deve fare di più e questa crisi dicevo ha creato carenza di fiducia che se andiamo a leggere i dati sono meno 300 miliardi di investimenti esteri fino a 4 milioni di posti di lavoro andati in fumo e una quota di manifatturiero crollata del 15% del PIL io per questo da commissario all'industria divenni promotore di una nuova politica industriale ha ragione il ministro Pato non concordo con lui quando dice l'industria non deve essere quella delle ciminiere non deve essere quella inquinante ci sono grandi sfide anche nel settore della green economy non possiamo far diventare tutta l'economia green greener sì ma green è impossibile oggi perché daremo un colpo mortale all'industria però dovremmo puntare su quella che è l'economia circolare su quello che è il digitale in Italia c'è un gap enorme il vero spread è quello nell'ambito del digitale non c'è impresa non c'è industria competitiva ma direi anche non c'è banca competitiva se non c'è o non c'è assicurazione competitiva se non si punta sempre di più sul digitale come se stanno facendo altre realtà in Europa ma anche fuori di Europa aiutare le imprese significa mettere a loro disposizione un accesso al credito più facile cosa fare l'Europa ha avviato il piano Juncker che non ha messo tantissimi soldi a disposizione però ha disegnato una strategia cercando di coinvolgere gli investitori nazionali e anche i privati bisogna dire che l'Italia è stata una dei prime ad ottenere il finanziamento di un progetto pensa riguarda il settore dell'acciaio da Arvedi nel nord del paese poi c'è l'altra grande strategia che è quella che riguarda il meccanismo per collegare l'Europa il CEF che ha un volume di oltre 7 miliardi per progetti chiave nel campo dei trasporti e questo rafforza ancora di più il piano Juncker però finché non scioglieremo alcuni nodi fondamentali anche queste lodevoli iniziative rischiano di impantanarsi nelle sabbie mobili della burocrazia della mancata vicinanza tra il pubblico e il privato perché il pubblico deve essere al servizio del privato la facilità dell'accesso al credito i tempi di pagamento più brevi da parte delle pubbliche amministrazioni io non ho fatto un cavallo di battaglia del mio mandato da commissario perché sarebbe la manovra economica perfetta nel nostro paese non soltanto una politica fiscale armonizzata che favorisca davvero le imprese e il completamento della riforma del settore bancario che colmi le falle nel senso di una maggiore integrazione economica dicevamo deve cambiare in Italia in modo particolare ma non solo anche a Bruxelles certamente il rapporto burocrazia imprese e burocrazia cittadine oggi tutto va a rilento perché ci vogliono decine di giorni per usare un eufemismo per avere delle autorizzazioni servono troppi permessi per avviare un'impresa e gli imprenditori perdono decine di giorni del loro lavoro nel rapporto difficilissimo con una burocrazia troppo spesso arrogante troppo spesso distante troppo spesso disinteressata alla crescita dell'economia reale e purtroppo questa burocrazia ma anche il sistema Italia non voglio esimermi dell'affrontare anche il problema del giorno perché bisogna che si racconti la verità su ciò che è accaduto e ciò che sta accadendo su questa vicenda delle obbligazioni secondarie sulla vicenda di queste quattro banche che hanno portato poi alla crisi di migliaia di piccoli risparmiatori ma tutto nasce perché l'Italia non rappresenta un sistema forte a Bruxelles perché nell'Unione Europea l'Italia è troppo debole manca un sistema manca la burocrazia manca la politica mancano tutti troppo orientati soltanto ad affrontare il caso nazionale troppo orientati alle piccole cose di casa nostra ma se la Germania è riuscita a salvare con finanziamenti con una strategia simile a quella che era stata pensata per le quattro banche cioè con un fondo di garanzia privato cioè delle banche è riuscita ad ottenere la possibilità di salvare quella banca perché l'Italia non è riuscita ad ottenere l'autorizzazione a salvare attraverso un fondo perché la motivazione era siccome c'è la banca d'Italia è pubblica ma forse perché l'Italia non ha fatto abbastanza i tedeschi hanno trattato per tre anni per salvare quella banca noi spesso inviamo magari un funzionario disattento che magari poi deve lasciare la riunione perché c'è da tornare a Roma perché chissà che cosa c'è da fare o deve vedere la partita la politica si preoccupa più di quello che dice al Tg1 o al Tg5 rispetto a quello che dice alla Commissione Europea e questi sono i risultati tutto nasce perché il sistema Italia non ne faccio una questione di destra centro-sinistra il sistema Italia manca da sempre siamo pieni di commessi di autisti di uscieri italiani pieni non c'è una strategia dottor Nava è uno dei più autorevoli funzionari italiani ma non c'è una strategia anche per dare spazio dare forza ai funzionari italiani è vero che sono funzionari comunitari ma l'Europa ha bisogno anche di un pensiero italiano che è diverso da quello degli altri paesi se vuole essere un'Europa bilanciata allora poi non ci possiamo lamentare se succedono queste cose perché forse se ci fosse stata un'allerta antecedente c'è chi anche in questa sala chi conosce bene questa vicenda forse forse non saremmo arrivati al punto dove siamo si poteva fare di più all'inizio si poteva fare di più in corso d'opera si poteva fare di più anche negli ultimi minuti però questa è la parte dove l'Italia a mio giudizio deve fare di più deve contare di più e deve tutelare meglio i propri interessi che sono gli interessi di 60 milioni di cittadini italiani perché quei poveri risparmiatori che oggi sono in difficoltà sono cittadini europei comunque se noi vogliamo veramente aiutare la ripresa e sostenere l'economia reale dicevo all'inizio non c'è crescita e non si esce dalla crisi se non si rafforza l'unione tra macroeconomia e microeconomia le banche le assicurazioni non sono qualche cosa di diverso rispetto alle imprese sono imprese anche loro ma devono mettere a disposizione i loro strumenti la loro forza della economia reale e questa è la chiave per uscire dalla crisi e per permettere di raggiungere gli obiettivi che tutti quanti vogliamo raggiungere che sono soprattutto quelli di creare nuova occupazione abbiamo una disoccupazione preoccupante non solo in Italia ma anche in altri paesi di Europa io direi vorrei citare per concludere tre elementi fondamentali per la ripresa il primo è il piano d'azione per l'unione dei mercati e dei capitali sul quale si è soffermato anche il ministro Padoa nel corso del suo intervento direi che questo è uno dei pilastri del piano di investimenti della commissione Juncker attraverso l'ampliamento e la diversificazione delle fonti di finanziamento per imprese e progetti a lungo termine questo non significa che le banche devono essere messe in un angolo che si vuole creare un'alternativa alle banche ma che si vuole anche coinvolgendo le banche creare altri strumenti finanziari a sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese questo è l'obiettivo del piano di azione noi abbiamo addirittura proposto di creare una piattaforma telematica che permetta di far conoscere agli investitori tutte le opportunità che offrono in Europa le piccole e medie imprese e viceversa permettere alle piccole e medie imprese di conoscere tutte le opportunità che il mondo della finanza insieme al mondo delle banche e al mondo dell'assicurazione mettono a disposizione delle piccole e medie imprese perché spesso il problema per i piccoli piccolissimi per gli autonomi per il mondo delle professioni è un problema di conoscenza e non sempre il mondo della finanza conosce esattamente tutto ciò che accade nel mondo della piccola e media imprese quindi io credo che questo piano di azione che insisterà molto sul venture capital sul crowdfunding ma anche sull'utilizzo dei fondi pensione mi dispiace se è andato via il ministro Padron ma lui ha trattato anche con il mondo delle professioni con le casse dei professionisti un utilizzo dei fondi pensioni per la crescita dell'economia reale per realizzare infrastrutture i fondi pensioni in Gran Bretagna sono utilizzati moltissimo molto più che da noi che spesso rischiano di rimanere chiusi in un angolo e non portano ai risultati che potrebbero portare naturalmente il Parlamento la Commissione i governi nazionali dovranno collaborare perché questo piano da piano si trasformi in scelte concrete il secondo punto riguarda il sistema bancario e la politica fiscale noi dobbiamo difendere in questo momento strumenti finanziari come l'SMI Supporting Factor lo strumento che ha permesso alle banche di erogare più prestiti alle piccole e medie imprese tenendo una riserva minore per prestiti fino a un milione e mezzo di euro dando quindi più agibilità alle banche e più fiducia ai piccoli e medi imprenditori io non vorrei che a Francoforte qualcuno pensasse di eliminare questo strumento io ritengo che noi abbiamo il dovere di difenderlo e di sostenerlo per frutto per frutto di un accordo tra mi riferisco all'Eba tanto per essere più chiaro penso all'accordo che abbiamo raggiunto all'epoca tra Commissione Parlamento e Consiglio per permettere alle piccole e medie imprese di aver più fiducia e quindi avendolo più fiducia dare anche alle banche la possibilità di meglio intervenire noi abbiamo negli ultimi anni anche fissato nuovi requisiti in termini di capitale liquidità e il governo societario e varato oltre 40 atti legislativi abbiamo creato tre agenzie per vigilare sull'attività degli istituti bancari ma noi dobbiamo anche ricordare che non è che siano leggi bus solute queste agenzie e mi riferivo alla scelta dell'Eba dobbiamo anche vigilare che queste agenzie e questo spetta al Parlamento non si trasformano in autoriti che facciano ciò che vogliono quindi serve anche porre dei limiti c'è stata tutta la scelta dell'Unione bancaria ma come abbiamo fatto dato vita a nuove regole dopo la crisi che c'è stata noi dobbiamo guardare al passo successivo non possiamo pensare che le imprese possano crescere e possano essere competitivi senza arrivare ad una vera Unione fiscale noi dobbiamo rafforzare l'equità nelle nostre politiche e cito una frase del Presidente dell'ABI Patuelli che nel suo ultimo libro Riferendosi a un'Italia ha scritto come si può pensare di essere un Paese attraente per gli investitori ma anche semplicemente un Paese con un futuro di sviluppo e occupazione se la stessa attività di impresa svolta a Mentone e non a Ventimiglia continuerà a generare un abbattimento di pressione fiscale del 60% se vogliamo completare il mercato interno se vogliamo completare la politica dell'Unione bancaria dobbiamo anche arrivare ad una unità fiscale certamente sarà difficile ma mai se ne parla mai si comincia ad aprire il dibattito mai si arriverà a raggiungere l'obiettivo il terzo punto riguarda il futuro della governance economica e monetaria europea su cui discuteremo la prossima settimana nel Parlamento europeo a Strasburgo io credo che vada complessivamente nella giusta direzione anche il rapporto dei Presidenti delle cinque istituzioni europee che delinea alcuni obiettivi importanti come quello di creare un tesoro della zona euro il rapporto è solo un primo passo verso una maggiore integrazione nelle politiche economiche dei Paesi dell'Unione nel lungo termine invece serve un sistema di governance unico con istituzioni europee forti e regole comuni e quando parlo di istituzioni europee forti e regole comuni parlo di vere regole comuni non regole che sono imposte da alcuni ad altri e dove il comune significa gli interessi di alcuni a danno di altri e ritorno quindi per concludere se vogliamo raggiungere questo obiettivo se vogliamo sul serio creare un'Europa che incida anche nelle scelte di politica finanziaria di politica economica che si arrivi ad un'unione fiscale dobbiamo avere un'Italia che conti di più c'è bisogno di più Italia in Europa non basta dirlo qua dobbiamo farlo lì io ho cercato di dedicare gran parte della mia vita politica al raggiungimento di questo obiettivo però ahimè siamo in pochi a svolgere questa azione serve molto di più serve che facciano di più le forze politiche servono che facciano di più le istituzioni servono che facciano di più anche le nostre banche le nostre assicurazioni e le nostre imprese che sono già bisogna dire rispetto ad altri più avanti però serve veramente una strategia italiana complessiva se vogliamo dare un contributo determinante ad avere lo diceva bene la Beta ad avere un'Europa che conti di più e contando di più permetta anche a noi italiani anche all'Italia di stare meglio ma deve essere un'Europa equilibrata un'Europa giusta un'Europa non arrogante un'Europa che non prenda i difetti che noi denunciamo qui a cominciare da quello della burocrazia però senza una scelta europea non andiamo da nessuna parte uscire dall'euro sarebbe una scelta dissennata abbandonare l'Europa sarebbe una scelta dissennata io credo anche che il Regno Unito alla fine non abbandonerà l'Unione Europea e questo secondo me di estrema importanza proprio per l'argomento di cui si discute oggi perché sarebbe un danno enorme per tutta la politica finanziaria non credo che uscirà dove vorranno ritrattare non è interesse della Gran Bretagna non è interesse degli Stati Uniti non è interesse della Gran Bretagna né economico né per rimanere Gran Bretagna cosa farebbe la Scozia in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea quindi c'è un problema anche di unità del Regno Unito certo noi dobbiamo comprendere le loro istanze perché abbiamo interesse non può esserci Europa senza Gran Bretagna ma anche gli inglesi devono rendersi conto che non esiste l'Europa la carte ma se vogliono essere parte integrante determinante di un'Europa capace di competere a livello globale devono compiere uno sforzo si può trattare ma la trattativa non significa regalare significa arrivare ad un accordo positivo noi dobbiamo fare di tutto per impedire il Brexit perché credo che la nostra economia e la nostra Unione ne trarranno grandi benefici ecco perché alla fine sono ottimista nonostante le difficoltà nonostante i problemi che ho enunciato non soltanto perché sono italiano lo dico per gli ospiti stranieri ma perché credo che l'Europa abbia le condizioni per uscire definitivamente da questa crisi che ha tre aspetti quello economico quello del terrorismo e quello dell'immigrazione se però saprà fare delle scelte politiche più coraggiose di quelle che ha fatto fino ad oggi vi ringrazio ringraziamo Antonio Tagliani e ne bravo alla dottor Gnala prego Buongiorno a tutti e grazie molto per l'invito come faccio quando posso penso che posso parlare italiano normalmente quando ando in un posto dove vedo la lingua parlo quella lingua quindi parlerò in italiano da adesso grazie molto dell'invito grazie soprattutto del fatto un fatto sottolineato dal presidente Abete che questo è il secondo anno noi venimmo l'anno scorso con molto entusiasmo a questo evento noi come commissione europea in particolare fu il commissario Hill l'anno scorso e quest'anno non potendo venire mi ha chiesto umilmente di sostituirlo ma noi venimmo l'anno scorso perché ritenevamo senza alcun dubbio che il tema dell'investimento è un tema centrale se c'è una conclusione che si può fare al dibattito dell'anno scorso credo perlomeno la nostra conclusione quella che noi abbiamo portato a casa era che abbiamo fatto 3, 4, 5 anni di riforma finanziaria perché sappiamo tutti che senza stabilità non ci può essere crescita ma è anche chiaro l'inverso senza crescita non ci può essere stabilità la mancanza di crescita è il più grande attentato alla stabilità e quindi trovo che sia assolutamente corretto partire dal punto a cui eravamo arrivati l'anno scorso questo fatto che stabilità e crescita sono i due lati della stessa medaglia e da quel punto cercare di vedere cosa serve per la crescita farò esattamente quello che il ministro il ministro Padoan ha chiesto di fare cioè di collegare in Europa lui ha detto di 3 dots i 3 puntini che sono Banking Union Juncker Plan e Capital Markets Union e cercherò di farlo non tanto da un punto di vista giuridico spiegandovi cosa abbiamo fatto perché per cosa per come lo sapete ma cercando di guardare ogni volta a quello che è successo nel mercato cioè qual è stata la market response delle regole che abbiamo messo prima di tutto credo il dottor Abete ha parlato molto di investimenti e certamente le sue parole erano informate dai fatti e questa è la conferma di quello che diceva la variabile quando voi fate disintegrazione del PIL la variabile che più ha sofferto della recessione è chiaramente la variabile dell'investimento quindi è giusto concentrarsi su quello Banking Union Banking Union tantissime regole market response market response basta prendere direi il documento più più recente che c'è che è l'EBA Transparency Report che è stato pubblicato una decina di giorni fa più o meno e l'EBA Transparency Report mostra due tre cose assolutamente inequivocabili mostra che come diceva il Ministro Padoan la Banking Union è stata fatta per riuscire a separare le debolezze bancarie dalle debolezze dei governi e non solo ma anche le debolezze bancarie sono state in gran parte recuperate vi dico solo due numeri ma invito tutti a leggere il rapporto perché ne vale la pena due numeri sulla robustezza bancaria il Common Equity Tier 1 sui risk-weighted assets che è l'indicatore principale in poche parole il capitale di rischio sulle attività rischiose è ora stabilmente fra il 10 e il 14% a seconda dell'uno dell'altra banca ma questi siamo i valori di cui stiamo parlando valori inimmaginabili pochi anni fa e il leverage ratio un indicatore crudo ma che nella sua crudezza qualche idea la dà è ora passato fra il 3 e il 6% mi piace sempre ricordare che se per il Common Equity Tier 1 c'è una legge cioè bisogna rispettare un certo valore per il leverage ratio non c'è una legge non c'è una legge che dice che voi dovete stare sopra il 3 si dice che forse ci sarà una legge c'è un'indicazione di massima le banche lo devono disclose quindi le banche devono dichiarare quanto o quanto hanno lo devono calcolare disclose ma non c'è una legge che dice che dovete stare sopra sopra il 3 questa è probabilmente l'evidenza più grande della Lucas Critic basta sapere che qualcosa succederà e quella cosa soprattutto in finanza succede ma io lo prendo anche da un punto di vista proprio della disciplina disciplina bancaria che è stato in ingrato l'Eba Transparency Report sottolinea moltissime moltissime cose di evidenza e di robustezza del sistema bancario l'elemento su cui chiaramente c'è ancora da lavorare elemento individuato spesso in tutte le nostre nei country specific recommendation è chiaramente quello dei crediti non performanti dei non performing loans quello è chiaramente l'elemento dove c'è ancora c'è ancora da lavorare il il Transparency Report come ho detto lo prendo come ultimissimo ultimissimo documento di robustezza perché è importante perché come credo dicessero come credo dicessero sia il Ministro Paduan che il Dottor Abete il sistema europeo in particolar modo il sistema italiano è essenzialmente finanziato dalle banche quindi noi stiamo facendo un'operazione di cui parlerò fra un minuto che è Capital Markets Union e quest'operazione di Capital Markets Union cerca di cambiare un po' diciamo questo bias ma finché il bias c'è ciò possiamo dire ai convegni ma la cosa che bisogna fare è adressarlo questo bias e fare in modo che questo bias venga cioè che il fatto di essere sostanzialmente bank financed non diventi una non diventi una debolezza questo appunto mi sembra punto punto essenziale oserei dire che per quanto riguarda la stabilità del sistema bancario quello è probabilmente un tic verde nel senso che credo possiamo certamente dire che a parte situazioni idiosincratiche cioè di l'uno o dell'altra banca ma il sistema nel suo complesso da un punto di vista sistemico ha fatto dei miglioramenti assolutamente assolutamente notevoli questo era il primo dot di cui mi chiedeva di parlare il ministro Padron il secondo dot è certamente quello dello Juncker plan ascoltavo con attenzione gli interventi delle tre persone prima di me e tutte e tre secondo me sono riuscite a sottolineare il cuore della questione il cuore della questione è che prima di tutto la commissione europea la commissione Juncker dopo tre mesi dopo tre settimane scusate dopo tre settimane che era al lavoro a novembre dell'anno scorso ha messo sul tavolo una politica che si può definire di domanda perché qua noi quello che stiamo cercando di fare ricordiamo ce lo studiamo tutti all'università a economics 101 come diceva Padron ma ovviamente affinché un mercato funzioni ci vuole la domanda e l'offerta quindi quando voi fate banking union fate offerta quando voi fate capital markets union fate offerta ma se non fate un po' di domanda poi diventa più più difficile dopo tre settimane la commissione ha messo sul piatto lo Juncker Plan che è oggettivamente una politica di domanda ora sempre nei vostri libri di economics 101 la politica di domanda in genere ha dei denari pubblici qui è stato sottolineato molto bene molto giustamente in particolare dal commissario dal commissario presidente è stato sottolineato giustamente qua ci sono denari pubblici e denari privati questa se volete è l'innovazione dello Juncker Plan lo Juncker Plan in classe lo definisco in classe all'università lo definisco leverage demand policy questa è una politica di domanda a leva che è uno strumento concedetemelo molto innovativo perché una domanda una politica di domanda a leva è chiaramente dimostra quanto meno una certa creatività è fatto è fatto in due modi c'è una parte che è quella che si chiama in gergo la pipeline cioè l'insieme dei progetti da valutare e poi eventualmente da finanziare e poi c'è ovviamente il finanziamento dei progetti il lavoro che lo Juncker Plan deve fare è grande perché come sapete come sapete sia l'investment gap è sostanzioso parliamo 350-400 miliardi all'anno è anche concentrato in maniera particolare fra i vari fra i vari paesi questo investment gap sia rispetto ai picchi ma soprattutto rispetto al trend è ovviamente senza intervento tende tende ad allargarsi quindi quello che dovrebbe riuscire a fare lo Juncker Plan è quello di chiuderlo sono molto contento sia del primo anno ma soprattutto del riscontro che abbiamo avuto qua e credo che tutti e tre gli interlocutori prima di me che sono certamente più neutri di me io potrei sembrare Cicero Prodomo sua hanno sottolineato che questo è un progetto che può veramente cambiare può veramente cambiare la faccia della politica economica europea e può dare quella spinta alla politica di domanda che mancava a tutte le caratteristiche che in genere noi chiediamo nei progetti ha una caratteristica di first loss per l'intervento pubblico ha una caratteristica di screening dell'investimento ha una caratteristica di selezione dei progetti quindi credo che continuare a lavorare su questa strada innovativa creativa ma soprattutto che fa leva e che fa agio sugli altri progetti perché quando Padoan diceva bisogna collegare i tre punti non credo che lo dicesse solo per fare una relazione davanti a un pubblico istruito come voi ma credo che lo dicesse proprio in maniera strutturale cioè lo Juncker Plan non potrebbe funzionare se non ci fosse la Banking Union e la Capital Markets Union perché fa proprio agio fa proprio leva sul fatto che Capital Markets Union e Banking Union non ci sono e funzionano il terzo punto Capital Markets Union il terzo punto per aiutare il più possibile l'investimento è ancora un punto di offerta ovviamente di miglioramento delle condizioni di offerta per l'investimento ha alcune tocca ad alcune caratteristiche che sono un po' la forza e la vulnerabilità del sistema europeo una che non poteva essere ricordata meglio da Padua è quella del finanziamento delle piccole e medie imprese di cui ha anche parlato il presidente Tajani poi ne parleremo ancora oggi pomeriggio quando parleremo del support in factor ma è chiaro che il finanziamento delle piccole e medie imprese che passa soprattutto dalle banche e non dai mercati chiama due reazioni una è quella del support in factor nelle banche perché finché passa da lì bisogna assicurarsi che passi per davvero e due è quella di fare in modo che a termine o nel lungo periodo le cose cambino e ci sia più finanziamento di mercato la componente direi più innovativa della capital market union se volete è che mentre banking union era una cosa monolitica essenzialmente perché banking union si trattava di spostare i livelli di controllo da una scala nazionale che oramai non rispondeva più alla scala economica su cui agivano le banche e di spostarla a una scala europea capital markets union è un insieme di iniziative e mentre parlavano i tre interlocutori precedenti ho preso nota delle cose che ciascuno di loro ha detto e la cosa interessante è che nessuno ha ridetto la stessa cosa il che dimostra per esempio è stato menzionato le pensioni giustamente è stato menzionato l'eltif è stata menzionata dal ministro Padoan alla securitization quindi è chiaro che questo insieme di cose che abbiamo messo nella capital markets union è stata menzionata la prospectus directive è chiaro che questo insieme di cose che abbiamo messo nella capital markets union funzionano e hanno una loro complementarietà nel senso che alcune servono più ad uni e altre servono ad altri il modo che per noi è più semplice di capire come integriamo le due cose che se volete la banking union è stata molto una questione di quantità più capitale bancario più sicurezza eccetera la capital markets union è una questione di fare in modo che queste quantità ottengano il loro giusto prezzo nei mercati che quindi i mercati grazie a una maggiore fluidità ottengano il loro giusto prezzo prospectus directive l'ha citata il ministro Pado non ho bisogno di ritornarci se non magari per una cosa soltanto la velocità con cui è stata fatta ripeto le due date 30 settembre action plan 30 novembre boom la proposta sul tavolo quindi due mesi molto rapidi chiaramente segno di urgente prospectus directive da sola chiaramente non cambia la faccia dell'Europa quello che cambia la faccia dell'Europa è assieme a tante altre cose è assieme per esempio al securitization anche sul securitization 30 settembre l'action plan congiuntamente con l'action plan del 30 settembre proposta sulla securitization 2 dicembre general approach cioè agreement in consiglio securitization anche qui è stato ricordato dal ministro Pado ha un impatto economico molto sostanziale perché stiamo parlando le stime danno sui 100 billions mi piace sempre ricordare che il securitization è un'iniziativa veramente europea ma europea nel senso in cui diceva Tajani perché la securitization se ve lo ricordate iniziò con un paper del primo aprile 2013 consiglio ECOFIN di Atene un paper a firma Banca d'Inghilterra European Central Bank quindi l'Europa tutta assieme che mette sul tavolo un paper per la securitization le discussioni nelle sedi internazionali in particolare in modo basilea per essere chiari sulla securitization sono state lunghe e intense finalmente qualche mese fa come avete tutti visto un consultation paper del comitato di Basilea riprende la stampa l'ha descritto in termini entusiastici io lo descrivo in termini normali riprende molta parte delle istanze che noi abbiamo fatto presente e il fatto che il consiglio in due mesi e un giorno trova un general approach e il Parlamento ha già nominato un un rapporteur ha già nominato un partito quanto ne so io non ancora il rapporteur ma sono sicuro lo farete presto per andare avanti su questo tema credo che sia una ovvia indicazione dell'attenzione a questo altro tema e poi magari concludo perché c'è una tavola rotonda che ci segue altro tema che mi preme sottolineare è quello della facilitazione dell'investimento di lungo termine leggermente fuori dal mondo bancario ma come sapete abbiamo fatto la FEBAF ricordava il presidente Abete la A sta per assicurazioni abbiamo fatto all'interno di Solvency 2 un decreto legislativo per facilitare l'investimento delle assicurazioni in imprese di lungo termine conclusione credo che il diciamo la diagnosi fatta che questi sono i tre se vogliamo far ripartire l'investimento questi sono i tre puntini da legare Banking Union Capital Markets Union e Juncker Plan la diagnosi è assolutamente corretta e quello che è interessante è che su tutti i tre puntini stiamo avanzando quello che voglio veramente farvi passare come messaggio è che l'avanzamento sui tre puntini sarà progressivo non bisogna aspettarsi dei big bang Capital Markets Union contiene al suo interno delle cose che prenderanno tempo ma come diceva uno dei migliori presidenti della commissione europea che io abbia mai conosciuto se per crescere una quercia ci vuole cent'anni meglio iniziare oggi che domani grazie 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 grazie